Un premio importante, è giunta la sua ventesima edizione e ricorda tra l'altro Franca Pierone Bortolotti che è stato un po' tutto per quanto riguarda la storia delle donne, soprattutto del passato. È stata una storica, un antifascista, una partigiana. Sì, Franca Pierone Bortolotti è stato un punto di riferimento per la costruzione della storia delle donne nel nostro paese dal XIX secolo in poi. Ed è stata davvero, attraverso i suoi studi, si è potuto fare in modo che la ricerca sulla storia delle donne potesse essere implementata e per questo appunto nel 1990 fu dedicato a lei questo premio. E da allora appunto è stato solo interrotto nel 2008 e poi l'abbiamo ripreso in Consiglio regionale nel 2012. Credo che sia un'occasione importante per tante giovani donne ricercatrici che hanno la possibilità attraverso questo premio di farsi conoscere, di far conoscere i propri elaborati e di poter essere anche pubblicati in alcune occasioni. Infatti attraverso il premio ci sono state anche importanti non solo occasioni di divulgazione di storia sulla storia delle donne, ma anche la possibilità di dare la possibilità a tante donne di avere carriera universitaria. E credo che quindi il premio Pierone Bortolotti è stato e continua ad essere sicuramente nel mondo della ricerca sugli studi di genere un punto di riferimento essenziale anche perché non è un premio solo regionale, è un premio nazionale e quindi tutte le studiose a livello nazionale possono ovviamente avere questo premio come punto di riferimento proprio per aprire il loro percorso sulla storia delle donne. Credo che sia un'occasione unica perché oltretutto tutto quello che viene attivato attraverso questo premio viene inserita all'interno di un fondo e ormai questo fondo è fatto da 841 elaborati che sono archiviati e che sono un punto di riferimento essenziale per tutti gli studiosi e le studiose non solo a livello nazionale ma internazionale perché si può accedere a questo fondo, è disponibile, è pubblico e quindi ovviamente tutti gli studiosi e le studiosi possono avere l'occasione di poter verificare questi studi con questa opportunità. Le donne qui riunite quest'oggi, dalle donne parte un pensiero e un ricordo anche per una donna il cui lavoro è stato molto importante per la Commissione per le opportunità del Consiglio regionale. Mi riferisco a Mara Baronti, scomparsa nei mesi scorsi. Sì, noi abbiamo voluto dedicare questa ventesima edizione anche a Mara Baronti perché riteniamo che la sua attività, devo dire, incessante sui diritti e le libertà delle donne è stato sicuramente un esempio. Mara Baronti è stata la presidente per vari anni della Commissione per le opportunità della regione toscana ma anche ha presieduto un'importante associazione femminista e culturale della nostra città, il Giardino dei Ciliegi. Riteniamo che all'interno del premio Franca Pierone Bortolotti il pensiero verso Mara Baronti è sicuramente una cosa di grande valore, di grande importanza per lei e credo per tutte le donne che l'hanno conosciuta e sanno appunto il valore che ha avuto per la nostra città. Grazie.